Ciao e ben ritrovati all'appuntamento con il patchwork emozionale. Ho pensato a due pesciolini da eseguire veramente con facilità e deliziosi magari da tenere come bellezza abbellimento per le finestre oppure li posizionate anche così in giro per la casa appesi sono simpaticissimi. Due pezzi di tessuto quindi doppi entrambi doppio dritto contro dritto e vado a cucirli in modo tale da avere questo pezzetto di un colore questo pezzetto di un altro quindi due colori per creare poi questo pesciolino piccolo e grande cioè piccolo e grande. Scusate questo è più grande questo è più piccolino dritto contro dritto il pezzo lungo e il pezzo corto da una parte stessa cosa dall'altra dritto contro dritto il pezzo corto e il pezzo più lungo ok quindi dovete avere due pezzi da cucire. Mi ritrovo ad avere la cucitura così ok sempre dritto contro dritto e adesso vado a mettere la testa del pesce a livello della mia cucitura. e il corpo sulla parte invece che ho deciso di tenere per il corpo potete o disegnare il pesce sul tessuto così poi seguite la linea che avete disegnato oppure puntare con due spilli il cartamodello e seguire il contorno. Come vi viene meglio qui mi sono disegnato il pesciolino vado a cucire esattamente sulla linea ho lasciato questo spazio per poter girare tutto il pesce. Adesso taglio rifilo in modo tale ovviamente stando attente a non tagliare troppo quindi a mantenere il margine di cucitura. Per girare meglio tagliuzzate leggermente qua in modo tale da poter girare bene tutto il tessuto così rimane meglio. Questo è il pesciolino rigirato che adesso va imbottito. Aggiungiamo l'occhio al nostro pesce sia di qua che di qua e questo è terminato. Adesso facciamo l'altro che è più piccolino nello stesso identico modo. Cucciamo prima i due pezzi di tessuto, disegniamo il pesce, lo rigiriamo, cuciamo ovviamente lasciando aperto uno spazio per rivoltarlo, rivoltiamo il tutto e poi imbottiamo e aggiungiamo l'occhio. Ne ho fatti tre perché mi piaceva tantissimo questa idea di avere i pesciolini tutti uniti e quindi li ho legati tutti insieme e ho fatto tre pesciolini. Che adesso vado ad appendere, li ho uniti con un filo, vedete con una corda, ho fatto il cappio e adesso vado ad appenderli alla finestra o dove vi piace di più. Vi lascio con un'altra bellissima idea che è quella di abbellire la tavola per esempio con queste conchiglie e una piccolissima balena. Se vi interessa lasciatemi nel box la vostra richiesta e la prossima volta vi faccio vedere come si fa.